Sogno la vittoria, no ma io Sant'Arcangelo è stata una parentesi piacevolissima, ho incontrato oltre ai risultati sportivi ho incontrato persone ottime dove ancora oggi è un rapporto splendido, quindi quella è una parentesi calcistica che difficilmente dimenticherò e adesso arriva in questo momento dove per noi chiaramente è fondamentale cercare di fare la partita migliore possibile per portare a casa tre punti che ci permetterebbero di riagganciare tante squadre, di trovare autostima in noi stessi, di affrontare quelle successive 15 partite con una autorevolezza diversa perché oggi chiaramente veniamo dalle ultime tre partite dove abbiamo fatto veramente regali perché secondo me abbiamo buttato via veramente la possibilità di fare punti in maniera quasi grottesca e quindi abbiamo una grande voglia di riconquistare quello che abbiamo perso appunto in queste ultime tre partite. Sono arrivati tutti i ragazzi, è stato fatto un giusto mix di esperienza con tanti ragazzi anche più giovani che hanno voglia di fare bene, di confermarsi, di migliorare la propria carriera, quindi a oggi sono sicuramente contento, poi però è il campo che dà le risposte e quindi dovrà essere il sottoscritto, dovranno essere i nuovi giocatori, i vecchi giocatori a migliorare quello che fino ad oggi siamo stati. Però io personalmente del mercato sono contento anche se chiaramente lo dovremmo dimostrare. Io penso che questa squadra abbia ritrovato e abbia trovato col mercato una personalità diversa, quindi io sto allenando questa squadra e mai come mai neanche nel mio primo periodo sento questa empatia tra me e la squadra. Poi so benissimo che chiaramente i risultati non vengono, la società è librissima di fare il bene, come ha fatto con i portieri, il bene per questa squadra. Ma io oggi sono serenissimo perché la cosa più importante che sento è l'empatia con i giocatori. È chiaro che tutti poi i risultati fanno la differenza e tutti noi vogliamo che venga questa grande vittoria di domenica prossima, ma non tanto per la classifica che è importantissima, ma soprattutto perché la squadra deve credere nel proprio potenzialità che ha. Grazie.